A Pesaro, Fratelli d'Italia prepara la sua sfida elettorale alle amministrative con 32 candidati in una squadra che miscela consiglieri comunali uscenti ad espressioni della società civile nuove alle esperienze politiche. È un gruppo coeso ed orientato sulla svolta auspicata dal candidato sindaco Marco Lanzi, quello presentatosi al Charlie Urban Hotel, sostenuto con forza dai vertici regionali del partito di Giorgia Meloni, dai parlamentari Lucia Albano, Elena Leonardi e Antonio Baldelli fino al consigliere regionale Nicola Baiocchi. Sostegno convinto ad un programma che mette la sicurezza cittadina in cima alla lista dei propositi elettorali. Con l'auspicio di realizzare un'amministrazione che rafforzi le forze dell'ordine sul territorio sia per il presidio sul territorio sia perché non è più accettabile che ci siano delle zone franche in città come il parco Miralfiore, come il parco della Resistenza, le zone limitrofe alla stazione, come addirittura la Galleria Roma che è in pieno centro storico. Questo non è accettabile e in questo l'amministrazione si deve prodigare per cercare di rivitalizzare queste aree della città ed evitare queste cattive frequentazioni, magari realizzando delle attività o degli esercizi permanenti che possono allontanare queste cattive frequentazioni. Programma che si declina poi in un impegno a risolvere le incompiute e ad imprimere un giro di vite netto al problema dell'eliminazione dell'amianto in città. Tratteremo poi anche il tema dell'identità, declinato sotto il profilo del turismo, sotto il profilo della cultura, delle attività commerciali, della necessità che l'amministrazione si adoperi per sostenere tutte le imprese locali del territorio, per evitare che ci sia sempre un favoritismo per la grande distribuzione in favore invece del commercio al dettaglio e di tutti quei negozianti che vendono i prodotti del territorio, per favorire anche i mercati rionali o le attività commerciali naturali. Con una particolare attenzione anche al sociale, perché è importante consentire a tutte le associazioni del territorio di partecipare alle attività della collettività, quindi non soltanto alle amministrazioni amiche, ma tutte le associazioni presenti sul territorio, quindi una partecipazione vera. Fra le novità anche ripensare la politica di interventi a step, intrapresa finora sullo stadio Benelli, per ragionare su un impianto nuovo e moderno. Uno stadio moderno, concepito non soltanto come luogo di attività calcistica, ma inserendo anche servizi come bar, ristoranti, palestre e altre attività, che consentano di rivalorizzare tutto il territorio, quindi consentendo la fruibilità di questo spazio, tutta la cittadinanza per l'intera settimana.